Che onore avere ospitato la Coppa Primavela, ma che gran successo, è andata benissimo. Tutti mi dicono questo, io sono veramente orgoglioso dei miei collaboratori, in modo particolare Muccio Scacciati, che è l'artefice di aver organizzato questo. Quindi il nostro club, insieme ai nostri partner, i circoli che fanno parte della compagine, siamo orgogliosi di tutti. Grazie. Non è ancora finita, ci aspettano i campionati italiani giovanili in singolo. Speriamo che Viareggio replichi le splendide condizioni di questi giorni. Il tempo è stato clemente, si era preparato male, ma d'altra parte noi abbiamo un detto che vincono solo i fortunati, perché gli sfortunati non vinca a Manonda. Noi siamo fortunati. Qual è stato lo sforzo organizzativo, l'impegno di un circolo, insieme a degli altri, per organizzare una manifestazione così grande? L'impegno è stato enorme, perché mettere insieme migliaia di ragazzi, con tutte le famiglie, con tutti gli spazi, vuol dire una grande sforza. Però tutti i club nostri vicini, compresi anche la federazione, la FIV non c'è da sottovalutare quanto è stata vicina, e tutti hanno contribuito, almeno in questa prima parte, a fare il successo che abbiamo.